la madonna e san leone primo contro il latrocigno di efeso di padre luca maria genovese un'altra eresia che sconvolse il quinto secolo cristiano fu il monofisismo un'eresia nata in seno alla vita monastica fosse troppo fervorosa di quell'epoca e che arrivò a negare in aperto contrasto con la dottrina dei concili la natura umana di cristo secondo questa dottrina cristo sarebbe stato uomo solo prima dell'incarnazione ma dopo di essa sarebbe stato soltanto di natura divina in tal modo non solo si negava la mediazione fondamentale della vergine maria sostenendo l'assurda tesi di un'umanità di cristo preesistente a maria ma addirittura si negava l'incarnazione e la possibilità che cristo potesse soffrire e morire realmente come avevano già sostenuto i doceti e i manichei che dicevano che cristo aveva sofferto solo con un'apparenza di umanità si tornava ai soliti errori dei primi secoli tanto si magnificava la divinità di cristo che si arrivava a negare la sua umanità e quindi l'influsso e l'effetto che la divinità di cristo poteva avere per tutti gli uomini portandoli alla redenzione l'eresia nacque in ambiente monastico e utiche il suo creatore era un monaco costantino polettiano che fece parte del movimento di reazione del nestorianesimo che imperversava dalla più alta cattedra di costantinopoli e utiche sentì di ribellarsi con una dottrina opposta non solo non ci sono due persone in cristo nestorianesimo ma c'è una sola persona ed una sola natura quella divina monofisismo comprendendo lo sdegno per la dottrina che sminuiva la persona del redentore rendendola solo un uomo nato da una semplice donna la nuova dottrina contribuendo a creare una nuova eresia sminuiva l'umanità di cristo a tal punto da far considerare in lui solo la divinità in entrambi dei casi però c'è un terzo incomodo che da entrambi gli eresi archi storio utiche viene messo da parte il grembo virginale di maria chiaramente e sostanzialmente generato l'umanità di cristo e la persona divina del redentore entrambi gli eresi archi per motivi opposti si sono dimenticati della scrittura e della storia e hanno nascosto o impoverito il contributo essenziale della vergine all'opera dell'incarnazione per far venire dio nel mondo in forma umana e utiche che godeva tanti appoggi nel mondo dei monaci molto stimato in oriente ed anche alla corte dell'imperatore crisalfio un suo figlio spirituale salito alle più alte cariche dell'impero cercò in tutti i modi di far passare la sua dottrina come ortodossa a nulla valsero un sinodo di vescovi in interessamento dello stesso sommo pontefice a quell'epoca il grande san leone magno distintosi anche per la difesa della città di roma dalle invasioni dei barbari per distogliere eutiche dalle sue idee il coriaceo monaco credette di risolvere la questione aiutato dalla corte imperiale facendo da essa convocare un concilio ad efeso nel 449 d.c. con vescovi in accordo con la sua dottrina che senz'altro dichiararono valida la fantasticheria di eutiche non tenendo conto del precedente concilio di costantinopoli del 381 che definiva cristo vero dio e vero uomo questo concilio convocato senza l'autorizzazione del papa fu annullato e fu dichiarato in seguito l'atrocinio di efeso il papa san leone primo si affrettò dopo appena due anni a convocare un concilio vero nel 451 presso calcedonia un soborgo di costantinopoli ove tutta la cristianità fosse rappresentata e al quale mandò legati di pontifici che portarono una sua lettera personale thomus ad flaviumum che conteneva il pensiero ortodosso della chiesa cattolica circa la questione da dirimere appena letto il plico del pontifice si narra che la quasi unanimità dei vescovi si alzò in piedi ad applaudire ad acclamare dio ha parlato per bocca di leone assicurando così la legittimità della dottrina comune delle due nature in una sola persona divina in cristo unione ipostatica e la condanna per l'eretico optiche che aveva messo in subuglio la cristianità orientale purtroppo l'irriducibilità dell'ardente monaco non si piegò neppure davanti al papa e al concilio e continuò la sua opera nella chiesa chiamata monofisita dall'argomento principale della sua dottrina che si sviluppò principalmente in egitto e che continua a sostistere fino ad oggi san leone magno oltre alle falle politiche dell'impero d'occidente dovette riparare quelle spirituali dell'impero d'oriente questo grande papa il primo con il titolo di magno per la sua opera persuasiva e conciliare fu sostenuto dalla madre di dio cui dedicò splende omelie per difendere l'unione tra umanità e divinità in cristo e con essa la nostra redenzione per opera di cristo per la mediazione della vergine cristo fu generato attraverso una natività nuova perché concepito da una vergine nato da una vergine senza concorso della concupiscenza carnale di un padre e senza danno dell'integrità della madre tale origine infatti conveniva al futuro salvatore degli uomini destinato ad avere in sé la natura della sostanza umana senza subire la contaminazione della carne dell'uomo il dio stesso è autore di quel dio che nasce nella carne dissimile la sua origine ma simile alla nostra è la sua natura ed è al di fuori dell'umano costume e della consuetudine umana quant'ora crediamo per fede è stato disposto dall'onipotenza divina che essa vergine abbia concepito che essa vergine abbia dato la luce figlio e vergine si è rimasta qui non è questione che riguardi la condizione della madre ma la libera decisione del figlio il quale è nato uomo come egli stesso voleva e poteva san leone magno omelia 22 possiamo dire che per mezzo di papa leone è sempre la vergine ad aver trionfato di questa sottile eresia che pur animata di buone intenzioni nel voler combattere un'altra eresia è caduta nel baratro di un errore che poteva compromettere l'unità della fede e della purezza dottrinale sulla persona di cristo e nello stesso tempo diminuire o annullare l'importanza della madre di dio ai fini della salvezza e della pietà cristiana grazie a tutti